Avevano trasformato un condominio nel rione Marconi di Reggio Calabria, di proprietà di un ente pubblico, dotandolo di barriere e strumenti di videosarveglianza che servivano a gestire una piazza di spaccio al riparo dalle attenzioni delle forze dell'ordine. Su richiesta del procuratore Bombardieri e del sostituto Musolino, il GIP Treglia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Vito e Gianluca Morelli, di 37 e 40 anni. Entrambi sono i fratelli di Antonio Morelli, il ragazzo di 29 anni, ferito gravemente giovedì pomeriggio a Rione Marconi e morto poco dopo in ospedale, dove era stato accompagnato proprio dal fratello Gianluca. L'omicidio non è collegato a questa indagine, nell'ambito della quale il GIP ha disposto gli arresti domiciliari anche per un altro indagato, Achille Mazza, di 58 anni, mentre una quarta persona risulta solo indagata. L'attività investigativa è stata avviata in seguito a un esposto anonimo e i carabinieri del comando hanno eseguito diversi sequestri di droga trovata addosso agli acquirenti, che uscivano dalla palazzina del Rione Marconi, dove si erano recati per rifornirsi delle sostanze stupefacenti. I riscontri investigativi hanno permesso di appurare che i vari soggetti bussavano alla porta d'ingresso dell'abitazione di Vito Morelli, che spacciava mentre si trovava agli arresti domiciliari. Ulteriori conferme del ruolo assunto dagli indagati, in qualità di autori, in concorso tra loro del delitto di detenzione e di cessione di cocaina, sono emerse anche dagli esiti delle perquisizioni, effettuate nel corso delle attività, a seguito delle quali è stata rinvenuta nel complesso una rilevante somma in contanti, costituita da banconote di piccolo taglio per un ammontare di circa 4.000 euro, sottoposti a sequestro in quanto considerati provento di spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie. 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 Grazie.